27 è un canale televisivo italiano edito da mediaset warner tv è un canale televisivo gratuito italiano dedicato a serie tv e film di produzione warner brothers edito da discovery italia parte del gruppo warner brothers discovery la raccolta pubblicitaria è affidata a discovery media ciao a tutti e alla prossima